Bilancio positivo del primo mese di attività sotto la presidenza di Maria Ceci all'Aterteramo. Approvati 31 studi di fattibilità per futuri affidamenti di lavori di ristrutturazione su immobili inagibili per un importo di 30 milioni di euro. Intanto un primo cantiere partirà con l'atterrato in via Damoli 48 nella primavera del 2020. Il progetto è stato appena depositato in comune. Ci tenevo ad aggiornarvi in merito al primo mese di questo consiglio di amministrazione. E' l'attività che è stata svolta dall'Aterteramo con particolare riferimento alle delibere del consiglio di amministrazione che sono state adottate in data 4 novembre. E sono stati approvati 31 studi di fattibilità afferenti proprio agli immobili da ricostruzione da Sisma 2016. Sono stati appunto approvati questi appunto i 31 studi riguardano circa un per un valore di circa 30 milioni di euro e soprattutto riguardano diversi un po' tutta la provincia. Circa 21 immobili nel comune di Teramo, uno al comune di Roseto, Campli, insomma tutto riguarda tutta la provincia di Teramo. Queste sono appunto già le prime attività che l'Aterteramo ha svolto, che il consiglio di amministrazione ha approvato in questo primo mese. E poi ci sarà anche un aumento di personale? Sì, per quanto riguarda il personale abbiamo già adottato appunto due delibere di assunzione a tempo determinato di due risorse. E già da lunedì, quindi lunedì prossimo, verranno assunti a tempo determinato due risorse proprio per andare a potenziare l'attività finalizzata alla ricostruzione post-sisma. La Presidente Ceci assicura che i tempi di intervento saranno più veloci rispetto al passato, grazie ad una stretta sinergia instauratasi con la Regione. La spesa complessiva che dovrà affrontare l'ente per la ricostruzione post-sisma su 52 immobili è stimato intorno ai 58 milioni di euro. I mille sfollati Ater vogliono e devono tornare a casa il prima possibile.